MS Cars, unico grande Suzuki Point a Rivoli, in corso primo Levi 23C, il vostro punto di riferimento Suzuki a Torino. Benvenuti a tutti da Marco Suma, chiaramente benvenuti anche in MS Cars, unica grande sede per quanto riguarda la vendita corso primo Levi 23C, per quanto riguarda il nuovo centro assistenza corso primo Levi 35C. Chiaramente Suzuki Point ufficiale ormai da diversi anni, grossa novità ma già lo sapete siamo diventati anche servizio e vendita a piaggio commercial, quindi tutta la versione NP6 Porter che potete carrozzare in 1800 modi diversi. E poi parlando dell'elettrico due ruote, V-Moto, quindi Super Soco, qui troverete anche le moto elettriche, i due ruote ecologici. A questo punto saluto velocissimamente, un ciao da Marco, passo subito la linea al nostro consulente che vi spiegherà quello che è il prodotto del nuovo MS Cars. Un benvenuto a tutti da Andrea Zoppelletto, il vostro consulente Suzuki in MS Cars. Come sempre l'obiettivo della mia consulenza è quello di aiutarvi nella scelta della nuova Suzuki ascoltando le vostre esigenze. Perfetta per tutti i giorni perché è 100% ibrida, perfetta per qualsiasi condizione grazie alla tecnologia 4WD All Grip. Con la tecnologia ibrida Suzuki 48V hai sempre a disposizione la potenza di due motori, uno termico e uno elettrico, che collaborano per garantirti la massima efficienza in termini di consumi ed emissioni. In più tutti i vantaggi fiscali legati alle alimentazioni ibride. Con il sistema Suzuki All Grip Select puoi affrontare ogni condizione. Seleziona la modalità di guida tra auto, sport, snow e lock. Al resto penserà la nuova Suzuki S-Cross Hybrid. Ideale per i tuoi viaggi grazie agli spazi interni ai vertici della categoria, sia per i passeggeri che per i bagagli. Nuovissimo è l'infotainment con schermo touch da 9 pollici. Di serie i più avanzati sistemi di sicurezza di guida autonoma di livello 2. Tutto lo spazio che ti serve sulla nuova Suzuki Swayze Hybrid. Pensate, fino a 1.606 litri di bagagliaio con una superficie perfettamente piatta. Ma andiamo a scoprirla. Swayze Hybrid combina perfettamente comfort, efficienza e potenza grazie a due motori, uno termico e uno elettrico, gestiti dalla vettura in maniera totalmente automatica. Quando desideri puoi impostare la modalità EB per sfruttare il solo motore elettrico e muoverti a zero emissioni. Nessuna necessità di ricarica. Swayze Hybrid mantiene il livello della batteria ottimale sfruttando le fasi di frenata e rallentamento. Viaggia in tranquillità perché con Swayze Hybrid le componenti del sistema ibrido, l'alternatore e la batteria a litio sono garantiti fino a 10 anni o 250.000 km. Su Swayze Hybrid la guida assistita è di serie. 10 differenti e avanzati dispositivi di sicurezza rendono ogni istante a bordo della tua auto più piacevole e sicuro. Non manca al centro della plancia un sistema infotainment di ultima generazione. Touchscreen da 8 pollici con Apple CarPlay ed Android Auto. Disponibile anche la ricarica wireless del tuo smartphone. Tua fino a fine mese con incentivo Suzuki di 5.000 euro con permuta o rottamazione. Vi aspetto. Un'icona in casa Suzuki, la nuova Suzuki Vitara Hybrid. Tua a partire da 22.100 euro oppure con una rata da 249 euro al mese. Disponibile anche con l'ultimissima motorizzazione 1.500 hybrid. Pensate, cambio automatico, trazione integrale. Suzuki Swift Hybrid. Tua a partire da 16.850 euro oppure con una rata da 199 euro al mese. Di serie su Swift i più avanzati sistemi di guida autonoma di livello 2. Fari full LED, sensori di parcheggio posteriore, telecamera posteriore per parcheggio assistito, navigatore, vetri elettrici, specchietti elettrici e molto molto altro. Venite a scoprirla. Il SUV compatto per eccellenza Suzuki Ignis Hybrid. Tua a 16.500 euro oppure anche qui con una rata da 199 euro al mese. Su Ignis particolarmente interessante è la gestione degli spazi interni che la rendono una compagna perfetta per le vostre gite fuori porta. Disponibile come per la Suzuki Swift sia col cambio automatico che col cambio manuale, due ruote motrici o quattro ruote motrici. Vi aspetto. Grazie per la vostra attenzione. 100% hybrid, 100% incentivi. Un lieto benvenuto anche da me e da Edoardo Suma qui in MS Cars in corso Primo Levi 23C. Ed ora andremo insieme a scoprire il vasto assortimento dell'usato garantito, targato e tagliandato MS Cars. E partiamo subito da questa splendida occasione. Parliamo di Suzuki SX4 S-Cross quattro ruote motrici. Anno 2014, pensate, soli 70.000 km percorsi benzina al prezzo di 14.490 euro. Un'altra occasione, parliamo di Skoda Fabia Station Wagon, ottima per la famiglia. Euro 6B, anno 2015, unico proprietario al prezzo di 8.490 euro. Nissan Qashqai, anno 2016, Euro 6B al prezzo di 15.490 euro. Un'occasione unica, parliamo di Mini 1D Countryman. Pensate, anno 2013, soli 50.000 km percorsi turbo diesel al prezzo di 14.490 euro. Venite a scoprirla. E per risparmiare dei soldini abbiamo anche una Fiat Panda, quattro ruote motrici, 1.3 multijet, unico proprietario, anno 2009 al prezzo di 6.490 euro. Ancora un'altra Nissan Qashqai, anno 2016, Euro 6B al prezzo di 15.490 euro. Ed ora parliamo di una vettura quattro ruote motrici. Daiatsu Terios, unico proprietario, anno 2006, al prezzo di 6.490 euro. Ancora due occasioni, quattro ruote motrici. Parliamo di Suzuki Gran Vitara 5 porte, unico proprietario, anno 2008, pensate, soli 100.000 km percorsi al prezzo di 10.490 euro. E ora passiamo all'ultima, Splenda Nissan Qashqai, quattro ruote motrici, anno 2009, unico proprietario, 7 posti al prezzo di 7.290 euro. E su tutte le auto targate MS Cars avrete 1.000 euro di sconto. E sono tutte in pronta consegna. Vi aspetto qui in concessionaria. Un ciao da Edordo Suma. E siamo giunti al termine di questa puntata. Chiaramente volevo salutarvi dal nostro centro di assistenza di Corso Primo Levi 35 C a Rivoli. Qui troverete la possibilità di aggiustare i vostri mezzi usati, nuovi e quant'altro. Ma soprattutto troverete tutta la gamma NP6 in pronta consegna da poter allestire come più vi piace. Per le vostre esigenze, quindi dal giardiniere al muratore, all'idraulico, tutte le attività. Qui potrete allestirla in 1.800 modi diversi. Ma adesso parliamo di quello che abbiamo già qui da proporvi. Soprattutto la possibilità di carrozzarvelo di serie, con cassone fisso o ribaltabile. Ma direi questo punto piccolo inciso sulla novità di Piaggio Porte NP6. Entriamo a spada tratta sul delivery con il nuovo Van App disegnato, uscito dalla matita di Umberto Palermo. Qui lo troverete, lo potrete toccare con mano a partire da 21.450. A questo punto ciao, vi aspetto. Se avete una vettura da riparare o quant'altro, noi ripariamo tutte le vetture. E soprattutto, grossa novità. Rental Unipol, qui lo troverete. Ciao da Marco, alla prossima.